La gestione del cinghiale è sicuramente una questione complessa che investe e coinvolge ampi settori, dalla gestione veterinaria a quella delle aree protette, dai danni in agricoltura al rischio di collisioni con gli autoveicoli. Tale complessità prima della programmazione di interventi che investono nella dinamica di popolazione richiede una riflessione profonda basata su evidenze scientifiche e sui risultati delle pratiche messe in atto sul campo. Per questo motivo il WWF Abruzzo, in sinergia con la facoltà di veterinaria dell'Università di Teramo, ha organizzato un convegno dal titolo Cinghiale il territorio, dalla ricerca scientifica alla gestione, volto a condurre un confronto allargato sulla gestione del cinghiale nella nostra regione basato sulla letteratura scientifica e i dati raccolti da esperienze concrete. Abbiamo voluto organizzare questo momento di riflessione sulla gestione di una specie così problematica come quella del cinghiale, ma un momento che sia basato su un studio scientifico, cioè porteremo dei casi studio presenti in bibliografia, cercando quindi un approccio quanto più possibile oggettivo, tecnico e non basato magari sulle sensazioni o su delle convinzioni ideologiche. Quindi è necessaria una riflessione ampia, il problema è complesso, non esistono scorciatoi e facili risoluzioni. La prima cosa da fare è confrontarsi, confrontarsi con i diversi punti di vista e cercare un punto di equilibrio, tenendo presente che il punto di equilibrio è dinamico, non può essere fermo per sempre, ma deve essere modificato in funzione delle esigenze e dei problemi che nel tempo quelle scelte possono condizionare. Per cui risposta è semplice, la caccia non è una risposta al problema cinghiale. Possiamo dire che l'ASL è in prima linea anche per risolvere questa problematica? Dunque l'ASL di Teramo istituzionalmente è in prima linea su diversi settori, il settore della sanità pubblica veterinaria delle ASL comprende più servizi, chi si occupa di malattie infettive, la sanità animale, chi si occupa di igiene delle carni, anche dei cinghiali cacciati e chi si occupa invece poi come noi per quanto riguarda il recupero degli animali morti e per la sorveglianza di alcuni piani di controllo, tipo il piano Trichinelle, tipo per esempio adesso è attuale la peste su vino. Quindi ci occupiamo anche di questo aspetto, conferendo le carcasse all'istituzio profilattico di Teramo. Il problema della numerosità, come va affrontato, credo che sia da approfondire con questi incontri come quello che viene fatto oggi.